Spostiamoci invece in chi deve fare il suo mestiere e in questi giorni parlare, continuare a parlare dei tanti piccoli o grandi pezzi di questo affresco fantastico della politica del mangia-mangia per così dire. E abbiamo qui con noi a questo proposito il direttore del ghezzettino Roberto Papetti, perché il direttore del ghezzettino Roberto Papetti giustamente ha scritto due giorni fa a proposito dell'estendersi, della presenza in molte altre regioni italiane di casi analoghi, magari non per portata, ma analoghi per regolamenti e disposizioni incomprensibili che consentono ai singoli consiglieri di spartisse risorse aggiuntive rispetto alla loro retribuzione senza giustificativi e aveva scritto appunto di quello che capitava anche in regione Veneto, se non che lo ha scritto sul ghezzettino e non lo avessi mai fatto, perché la politica veneta gli è in sorta contro, è così Papetti? Buongiorno innanzitutto, è esattamente così, noi abbiamo raccontato quello che succede in Veneto, che certo non è paragonabile per entità, dimensione a quello che è emerso in altre regioni d'Italia, ma che era comunque secondo noi un esempio illuminante di come funzionano le cose nella politica italiana, in alcuni consigli regionali e ad altri livelli della politica. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che ogni mese, ogni mese dell'anno, Natale, Ferie e Comprese, ciascuno dei 60 consiglieri del Veneto intasca 2100 Euro netti, che si aggiungono allo stipendio, ai rimborsi spese, per le attività istituzionali, ai rimborsi chilometrici, casa, sede regionale e a tutte le altre voci che compongono lo stipendio, riceve questi 2100 Euro, esentasse fuori busta e senza il dovere di presentare alcun tipo di pezza giustificativa, ma non solo. Fino all'aprile scorso questa voce era inserita nello statino, nel cosiddetto busta paga dei consiglieri regionali, con una voce bonus non imponibile, una cosa un po' strana. Da aprile, senza che questo fosse comunicato a nessuno, questa voce è stata trasferita ed è stata affidata ai gruppi consigliari, che erogano loro automaticamente, con un bonifico, ai propri consiglieri questa e questa cifra. Il capitolo di spesa da cui è stata tratta questi soldi, che a livello annuo vuole dire un milione e mezzo di Euro, quindi non una cifra niente, sono prelevati dalla voce spese impreviste, che fa anche un po' ridere, visto che mi sembra invece che sia tutto previsto, tutto pianificato in modo tale da garantire tutto a tutti. Noi abbiamo raccontato questo, abbiamo parlato di fuori busta e di pagamenti nero, perché questo è un modo, magari non voluto, ma di fatto in questo modo si evita di pagare le tasse su una voce di stipendio, su cui invece qualsiasi altro cittadino, se prendesse quei soldi dovrebbe pagare le tasse e la politica veneta tutta si è inalberata, ha minacciato querele, salvo poi il giorno dopo annunciare che si dò però, un certo partito adesso ha annunciato che da adesso in poi loro però erogheranno questi soldi solo a fronte di spese certificate, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha annunciato che adesso online metteranno tutte le voci, che verrà fatta una grande operazione di trasparenza, insomma adesso si fa a gara a dimostrare che si è più trasparenti, l'unica cosa su cui non si fa a gara è la decisione che dovrebbe essere presa, cioè di rinunciare a questi soldi o chiedere che vengano inseriti nella busta paga e quindi assoggettati a tassazione come dovrebbe avvenire per tutti i cittadini, perché come ho anche scritto se si scoprisse che in un'azienda, in qualsiasi azienda di questo paese ci fossero 10, 12, 15 dirigenti che ogni mese ricevono dal proprio datore di lavoro 2000 Euro fuori busta, giustificati dal fatto che devono tenere relazioni sociali del territorio, se la guardia di finanza o l'agenzia delle entrate riscoprisse, scatterebbe immediatamente un'inchiesta, si parlerebbe di nero, di fuori busta, di evasione e di illusione, se questo vale per un'azienda, per i liberi cittadini non capisco perché non debba valere per i consiglieri regionali del Veneto piuttosto che di altre regioni. Senta un po', ma i capigruppo che hanno reagito a quello che avevate scritto sul gazzettino dicendo vi queriliamo tutti insieme, ci sono state eccezioni tra le forze politiche che consentano se ne sottolineiamo pubblicamente di distinguere il comportamento oppure tutta la politica presente nel consiglio regionali del Veneto è insorta come un solo uomo dicendo i giornalisti ci stanno infangando perché non è vero quello che dicono, qualche eccezione c'è stata? No, allora ufficialmente no, dopodiché sono arrivate naturalmente telefonate di gente che dice noi non siamo d'accordo, questi sono pazzi, non si rendono conto di quella che è la realtà ma insomma neanche questo mi sorprende. Io poi non mi scandalizzo neppure di questa reazione purtroppo è la dimostrazione della distanza che c'è tra la politica italiana e il sentire la realtà e la realtà della gente. Poi posso anche capire che i consiglieri del Veneto che in altri momenti sono stati i primi a ridursi l'indennità, hanno dei compensi oggettivamente inferiori a quelli di altri loro colleghi, nel momento in cui scoppia il caso Lazio, loro si ritrovano sulle prime pagine dei giornali e rischiano di essere equiparati ad altri, per così dire, protagonisti infausti della politica italiana in questo momento se la siano presa, ma il modo di reagire denota una scarsa sensibilità, anzi un'assoluta assenza di percezione di che cos'è la realtà, perché un politico serio e cosciente di fronte a un giornale che ha rivelato questo, l'ha raccontato, anche se l'ha raccontato con toni forti, ma questi sono i toni che bisogna usare per far capire a questi signori che devono cambiare, quello che deve fare è prendere atto, mettere immediatamente in azione correttivi, se necessario anche chiedere scusa dicendo abbiamo sbagliato, queste sono leggi che abbiamo ereditato magari, ma adesso ci impegniamo a correggere, minacciare querele non serve assolutamente nulla, anzi dà l'impressione, questo sì anche se è un termine che io non ho mai usato, che esiste effettivamente una casta che cerca, che utilizza tutti gli strumenti a disposizione per difendersi e questo non è bene innanzitutto per la politica, ma non è bene neanche per l'Italia. Io sono totalmente d'accordo con il direttore del Gazzettino Papetti, a mio giudizio il totale senso di impunità, perché questo è il termine che mi viene in bocca da usare, che dimostrano queste reazioni tardive di una classe politica, di tutto analoga in questo, alle reazioni di stupore che avevano i segretari e i vicesegretari del partito della prima repubblica quando scoprirono che non funzionava più la loro arte dei pifferai magici. Nella seconda repubblica è incredibile come l'ipersemplificazione di lotta tribale contrapposta abbia fatto credere a stuoli di politici paracadutati nelle loro funzioni, paracadutati non scelti né dal basso né da partiti che non esistono più. Mi viene da dire quando qualcuno mi dice il PD esiste davvero, il PD certo che c'è, io gli dico sì, perché il segretario del PD risceglie la base del PD, mi ricordo un solo segretario del PD in cui si coinvolse la base nella scelta, il popolo dei fax, l'indicazione da Veltroni, il segretario quella volta fu D'Alema, da allora i segretari sono espressioni di un patto tra oligarchi, cioè D'Alema, Veltroni e in minoranza le altre rappresentanti dell'anima del PD, che di volta in volta si sono attribuiti il ruolo. Bersani attualmente, e lo sapete perfettamente che è così, è l'espressione di quel patto di oligarchi, che è dire mettiamo un segretario che per il momento non impegna molto, ma tiene insieme tutte le diverse aree, compresa Enrico Letti, Labin, Enrico Morando, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è ciò che più vicino resta all'idea di un vecchio partito, ma anch'esso non ha più niente a che fare con l'idea di scelta da basso. Quindi secondo me questo senso di impunità, dei partiti che poi insorgono contro chi scrive dicendo ma vi prendete ogni mese, 2100 euro, faccio notare a chi ci ascolta, supera di 200 euro la media del reddito mensile di più del 50% dei contribuenti italiani, perché il 50% dei contribuenti italiani ha una media di reddito mensile che non supera i 1900 euro al mese. Quindi qui stiamo parlando di una cifra considerevolissima rispetto alla condizione degli italiani, come sapete voi che siete in ascolto e che fate vite ordinarie, ma il politico se la dà, gratis, senza tasse e senza giustificativi e insorge quando tu gli scrivi che se la portano a casa. Di che cosa stiamo parlando?